Svolta nelle indagini sull'esplosione avvenuta al mercato settimanale di Gela nel giugno del 2019 quando in conseguenza delle ustioni riportate due persone persero la vita mentre altre 13 riportarono gravi lesioni ed ustioni. La locale procura al termine delle indagini preliminari condotte dagli agenti della Polizia di Stato ha chiesto il rinvio a giudizio di un imprenditore 48enne che dovrà rispondere di omicidio colposo aggravato, incendio e lesioni gravi. L'indagato, con licenza di commercio al dettaglio, ambulante, di prodotti alimentari e bevande svolta all'interno del mercato settimanale di Via Madonna del Rosario a Gela secondo le ipotesi accusatorie a causa di negligenza e imprudenza nella conduzione dell'impresa individuale ed in considerazione di innumerevoli violazioni di legge e regolamenti è ritenuto responsabile dell'esplosione cui seguì l'incendio di un furgone, di altri veicoli e di alcune strutture per il commercio ambulante. In seguito alla deflagrazione ed in conseguenza delle ustioni riportate due persone persero la vita mentre altre 13 riportarono gravi lesioni in particolare l'ambulante in concorso con persone della stazione di rifornimento carburanti Sicil Petroli con sede a Canicati è accusato di aver effettuato il rifornimento di alcune bombole di gas GPL in spregio del divieto di riempirle attraverso il carburante GPL per autotrazione.